Il palazzetto di San Laurentino tornerà nelle mani del comune di Arezzo, scongiurato così l'incubo chiusura della struttura sportiva ad oggi di proprietà del demanio che ha rischiato di chiudere i battenti a causa di importanti lavori strutturali non più rimandabili. È partita formalmente la procedura per la riacquisizione, quindi il comune di Arezzo acquisisce definitivamente il palazzetto di San Laurentino, il che significa, e questo che è interessante, che ci potremo lavorare per metterlo noi in sicurezza perché in questo momento essendo nel demanio era impossibile per noi poterci lavorare. Quindi è evidente che è un percorso che non dura un giorno e neanche una settimana, però è un percorso definitivo che dà una risposta decisiva all'impiantistica sportiva della città di Arezzo e cioè riacquisire San Laurentino significa poterlo mettere a norma in un tempo che dovremo valutare anche insieme al demanio rispetto alla cessione, però è una risposta, non è più una top, è una risposta vera a un problema che ormai era troppi tempi, troppi anni che andava avanti. Novità all'orizzonte anche per le quattro società sportive che svolgono le proprie attività all'interno del palazzetto di San Laurentino, ginnastica Petrarca, box calamati, judo e sbandieratori, anche se il loro ritorno all'interno del palasport non sarà imminente. Noi con le società stiamo facendo un percorso per trovare una soluzione alternativa in questo anno, nel senso che ciò che non si può fare è prendere delle posizioni quando non si è sicuri di poterle mantenere. Quindi intanto troviamo delle alternative adeguate per le società sportive, ci stiamo lavorando, io le ringrazio perché è un elemento di grande difficoltà, però è anche un elemento oggettivo, la sicurezza è per tutti il punto fondamentale. Parallelamente, riacquisendo San Laurentino, diamo una prospettiva futura di certezza.